Passeggeri bloccati per ore nel tunnel della Manica. Il treno si è fermato ieri sera a causa di un guasto. Le persone sono state evacuate attraverso una galleria di emergenza. Decine di persone sono rimaste bloccate per ore ieri sera all'interno del tunnel, della Manica dopo che un treno per trasporto passeggeri e veicoli, da Calais a Folkestone si è fermato per un allarme a bordo. Sui media britannici sono state diffuse immagini in cui i passeggeri del servizio Eurotunnel, le shuttle, vengono evacuati attraverso una galleria di emergenza, dopo aver dovuto abbandonare le loro auto. Alcuni di loro hanno raccontato il disagio vissuto parlando di esperienza terribile. Sono stati poi trasferiti su un treno sostitutivo, e portati al terminal di Folkestone nella contea inglese del Kent. Un portavoce di Eurotunnel ha detto che i servizi, sono tornati alla normalità. Questi incidenti di solito sono molto più comuni sui treni che trasportano camion rispetto a quelli con auto private.